È gravissimo un 37enne bassanese in fin di vita al San Bassiano a seguito delle ferite alla testa riportate dopo una lite in via Roana. L'uomo, noto per episodi legati allo spaccio, si era trovato con alcune persone quando tra lui e un ventenne, anche egli residente in città, arcinoto alle forze dell'ordine, è iniziato un diverbio. Il più giovane ha colpito il 37enne con un pugno facendolo cadere a terra. L'uomo ha sbattuto violentemente la testa, perdendo i sensi. L'aggressore è scappato, i presenti hanno allertato il 118, i sanitari hanno intubato il ferito e portato d'urgenza al nosocomio di Via dei Lotti. Sul posto i carabinieri di Bassano che hanno sentito i testimoni. Il ventenne è sottoposto a fermo per lesioni personali aggravate, ma la sua posizione potrebbe appesantirsi se dovessero peggiorare le condizioni del ferito.